Giulio diceva spesso io sono europeo e lo diceva immaginiamo perché sentiva particolarmente suoi valori democratici di solidarietà e uguaglianza che almeno nelle intenzioni erano nel cuore dell'Europa. Nonostante questo suo sentirsi europeo quando toccò scegliere la destinazione del collegio del mondo unito Giulio mise al primo posto gli Stati Uniti, New Messico. Per noi non fu facile quella separazione ma non abbiamo mai pensato che non fosse la scelta giusta. Eravamo preoccupati come genitori era giovane non aveva nemmeno 18 anni e si trovava dall'altra parte del mondo. I mezzi tecnologici poi non ci aiutavano a scriverlo ora sembra un'altra epoca la mail era ancora poco in uso per comunicare c'era prevalentemente un telefono fisso che si trovava nel dormitorio. Ci eravamo dati la regola di sentirci una volta a settimana salvo necessità particolari. Noi siamo stati genitori molto presenti ma abbiamo sempre cercato di dare grande fiducia ai nostri figli anche quando erano lontani. Giulio andava a scuola a Trieste viaggiava in terza superiore la professoressa d'italiano in uno dei colloqui ci chiese incredula se era vero che Giulio non avesse il telefonino. Confermammo ma come pendolare insistette la professoressa ci sono le cabine le rispondemmo evidentemente il problema non era il telefonino in sé per noi era un gesto simbolico di fiducia nei confronti di Giulio così come poi dopo abbiamo fatto anche con Irene. Il cellulare poco tempo dopo io l'abbiamo comprato comunque ma solo perché hanno cominciato a togliere le cabine del telefono. Ecco questa educazione con un margine ben chiaro di fiducia e responsabilità abbiamo voluto continuare a mantenerla anche quando Giulio è partito. Il nostro atteggiamento era quello di permettere che i ragazzi crescessero che facessero le loro esperienze che si prendessero anche le loro responsabilità da soli sapendo però che mamma e papà c'erano sempre. Non sono mai stati dei ragazzi senza genitori abbandonati ma avevano un loro spazio. Per dire fin da piccolissimi hanno avuto una paghetta per gestirsi da soli i primi risparmi poi da più grandicelli una carta di credito. È stata una scelta giusta. Con Giulio non ne abbiamo mai parlato direttamente ma pensiamo che abbia apprezzato. Era una questione educativa quasi sentimentale. Non avere contatti frequenti ti aiuta ad allontanare la nostalgia. E Giulio si era settato su quella tempistica. Giulio si era adattato bene. Non noi. Di giorno non ci pensi ma la notte era difficile. Chiudere gli occhi e sapere che tuo figlio non era lì accanto ma a migliaia di chilometri in un altro continente chissà fare che cosa. Ti si stringe lo stomaco ma poi impari a conviverci perché sai che è giusto così. E impari a prendere anche le cose buone di quella telefonata. L'ansia dell'attesa. La gioia di ascoltare quel tono di voce. Giulio ci raccontava dei professori. Alle volte erano sfoghi altri invece erano racconti di viaggio. Era stato in Perù a trovare amici che studiavano con lui. Al lago Titicaca sul Machu Picchu a città del Messico in un ospedale oncologico per bambini. Erano racconti pieni di voglia. Di dettagli di futuro. E noi eravamo felici così. E poi gli inviavamo dei quotidiani a conferma che Giulio era lontano ma non distante. Voleva sapere cosa accadeva. Leggere. Essere sempre informato. Stare sul pezzo. Leggeva il quotidiano già alle medie e ha continuato alle superiori. Quando viaggiava in treno per raggiungere la scuola arrivava in classe già informato. Ce lo hanno ricordato poco tempo fa i suoi professori. Ogni mattina bombardava tutti di domande. Così è stato anche dopo. Aveva necessità di conoscere le cose del mondo. E per questo noi gli facevamo una selezione delle notizie più importanti. Curiose. Interessanti. E ogni tre settimane il pacco era pronto per partire. Insieme ai barattoli di salse. Perché mangiare bene significa anche vivere bene. E chiaramente Topolino. Chissà quanti costi di spedizione in più abbiamo pagato per il peso di quei Topolino. Giulio ha festeggiato i suoi 18 anni nel college in New Messico. Abbiamo le fotografie di quella festa. I compagni lo avevano imbrattato tutto come da tradizione. In realtà Giulio non aveva molto festeggiare i suoi compleanni. Non lo entusiasmavano. Anche se era un gran caciarone. Non è un caso che oggi molti dei suoi amici di tutte le parti del mondo sono ancora in qualche forma qui accanto a noi. Sarà perché lui ha sempre amato stare accanto alle persone. Anche quelle più deboli. Si metteva a loro disposizione e cercava in qualche modo di aiutarle. Un'attitudine che esplosa proprio in quelle esperienze in New Messico. Quando ci è capitato di parlarne raccontava il fastidio verso una società, quella americana, concentrata sull'arrivismo e la competizione. Come piegata su se stessa, senza rendersi conto che esasperazione è sinonimo di disgregazione. Il New Messico da questo punto di vista ne è un esempio plastico. Per pochi americani bianchi ricchi ci sono moltissimi nativi americani e messicani che non riescono a mettere insieme una giornata. Che vedono calpestare i propri diritti in nome di una democrazia più raccontata che reale. Giulio forse negli Stati Uniti per la prima volta è stato messo fisicamente davanti al concetto della disuguaglianza. Un concetto che poi non l'ha mai abbandonato. La società che aveva osservato lì non era una società perfetta come raccontavano. Perché accanto al benessere c'era in un angolo ma in bella mostra lo sfruttamento. E lui non lo tollerava. E crediamo che questa sua repulsione fosse figlia anche della nostra storia. Della storia della nostra terra. Monfalcone è da sempre stata una grande casa del sindacato. Le nostre mamme, le nonne di Giulio e Irene hanno sempre lavorato anche negli anni 50. Questo ha costruito una cultura della fatica. Ma anche della tutela. Non abbiamo mai tollerato le ingiustizie e le disuguaglianze. Era un pezzo del DNA di Giulio.